... Venezuela contro Bolivia risultato di 5 a 1 per i venezuelani calcio d'angolo per Marra che mette al centro Romeo non riesce a controllare la palla riparte Mirune il portiere boliviano palla per Sergio Stanziano che sale sull'alto sinistro al centro per Michele Ciotola 1-2 che non riesce Michele recupera la palla attenzione carica a destra gol Ciotola grandissimo il talento boliviano Simone Monaco grandissimo giocatore all'esterno sinistro dei venezuelani Marra ancora per Monaco cerca Raffaele trema terra Ciotola per Sergio Stanziano scatto scatto d'animale io direi felino mamma mia che velocità io aggiungerei felino Marra trema terra dopo mezz'ora si appoggia a centrale per Romeo che viene a prendere palla nella sua metà campo ancora Vittorio Romeo al centro con la neri interviene riparte Ciotola che aggira l'avversario con un'ottima finta 1-2 con la bomber con la neri ma perdono palla Romeo ancora lui salta l'avversario ci prova attenzione Monaco proprio lui il talentoso giocatore del Venezuela Sandro Stanziano per Milone ancora per Sandro cerca con la neri che va incontro ma viene anticipato benissimo da Marra il numero 3 trema terra in profondità Sandro svirgola ecco qua fanno laterale per il Venezuela trema terra per Romeo Simone Monaco cerca il tiro palla sulla schiena di Sandro Stanziano fanno laterale ancora loro Monaco ha anticipato benissimo è fermato riporto il contromine Sergio Stanziano cerca il tiro angola troppo Sergio aspettami quanto hai giustato? due secondi faccio pure due secondi quando è entrato lui il capitano ha dato la scossa forse ai suoi Sandro Sandro per il fratello ancora due Stanziano cambio gioco di Sergio Stanziano per Danilo Colanini che scende sulla fascia destra attenzione Danilo cerca la verticalizzazione ma viene fermato da Monaco al centro Mirone tenaggia Mirone attenzione sbaglia il rinvio con le mani Michele Ciotola non ci arriva siamo accompagnati di Vincenzo Orlaggio Vincenzo che dici di questo lancio di Mirone che cazzo mi hai domando tutti sanno le mie doti atletiche del braccio ma che punti non lo so in poche parole chiudiamo il collegamento con Vincenzo che sta dicendo solo stronzate attenzione gollo a Monaco Fabrizio con la nera 6 a 2 per il Venezuela che se non sbaglio scavalca gli avversari in classifica e si porta al secondo posto la partita non è conclusa in questo momento momentaneamente sempre alle spalle del Cile il Cile è una grandissima squadra hanno una punti deboli hanno una difesa di ferro un saluto anche a Maurizio Basile il centroavanti possiamo dire il Maurizio Isla l'uomo dappertutto oppure Sanchez che dice Arlando Ciccio Valenti Marzio se la scherziamo è un amicone a volte ricorda Bud Spencer da picco attenzione ricordiamo anche Sica polacco con doppio passaporto polacco con doppio che doppio passaporto attenzione scivolata sul pallone grandissimo intervento di Stato Stanziano Monaco rita su destra cerca chino collo dopo questo grandissimo collo possiamo salutare gli amici a casa un saluto da Gennaro Vincenzo ciao ragazzi grazie 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 grazie